Bella ragazzi, è venuto in questo nuovo video, ci siamo tornati per parlare di Bosnia e Herzegovina Italia partita valida per la qualificazione agli europei under 21 stiamo vinciando 2 a 1 siamo andati in vantaggio con Okoli abbiamo raddoppiato con Vignato poi la Bosnia è riuscita ad accorciare le distanze una decina di minuti fa neanche con Barisic e adesso ci gustiamo quest'ultimo minuto e mezzo più il recupero di una bellissima partita che sicuramente potevamo vedere più gol perché l'Italia ha avuto quella grandissima occasione con Piccoli e subito dopo il gol del 2 a 1 se ne ricordo male con Piccoli davanti al portiere che stava a terra le tira addosso al posto di fare anche un pallonetto perché stava praticamente il portiere a terra lui stava vicinissimo alla porta ha voluto tirare di potenza ha preso il portiere la Bosnia ha sbagliato anche diverse volte in difesa così come abbiamo sbagliato anche noi quindi sicuramente ci potevano essere più gol sia da una parte sia dall'altra penso che l'Italia poteva farne almeno altre due così come la Bosnia poteva farne due a posto di appunto stare a uno però diciamo che l'importante ovviamente è sempre vincere la partita non importa come ma basta che si portano a casa i tre punti e per ora lo stiamo facendo mancano 15 secondi al novantesimo e poi appunto vedremo quanto sarà il recupero l'Italia che ha fatto una buonissima partita Bosnia che ha provato a rispondere in certe occasioni soprattutto su errori nostri mi ricordo quell'occasione sul 2 a 0 mi sa che eravamo già nel primo tempo con il portiere nostro Turati che ha sbagliato quel passaggio ha intiato 6 minuti di recupero addirittura dicevo Turati che ha sbagliato il passaggio ha praticamente regalato il pallone all'attaccante avversario che è riuscito a saltare il portiere ha tirato a botta sicura Lovato ha fatto un salvataggio incredibile sulla linea mandando la palla in calcio d'angolo quindi sicuramente là la Bosnia poteva già accorciare le distanze Lovato ci ha salvati che ha fatto una bellissima partita Lovato in difesa ma anche lo stesso Ocoli che ha sbloccato la partita segnando il gol dell'1 a 0 e Vignato che è segnato praticamente all'esordio con l'Italia Under 21 doppio assist di Tonali doppio gol su pallone attiva incredibile cioè tutti i due calci d'angolo il primo è un gol normalissimo di testa sul cross bellissimo di Tonali secondo gol Tonali dall'altra parte batte il calcio d'angolo la mette sul secondo palo dove arriva Vignato diciamo in allungo lasciato completamente da solo e fa un gol bellissimo tirando appunto questa palla facendo questo tiro al volo in allungo mettendo la palla sotto la traversa imparabile per il portiere avversario e Tonali quindi che ha fatto una partita incredibile come al suo solito con l'Italia Under 21 ci ricorderemo ovviamente anche le altre due partite e vediamo adesso no niente ci hanno fermato l'azione altri diciamo giocatori che hanno fatto una grande partita vabbè in generale l'abbiamo giocato benissimo tutti quanti Bellanova poteva fare un gol sul 2 a 0 poteva fare appunto il terzo gol della partita ma il portiere ci ha messo una bella pezza ci ha fatto una bella una bella parata anche su Rovella c'è stato un diciamo un intervento da parte del difensore in questo caso a murare appunto il tiro di Rovella che era praticamente un tiro da quasi dall'area piccola quindi comunque un'occasione importantissima e vabbè in generale abbiamo avuto tantissime occasioni quelle più importanti ve le ho dette ma comunque in generale abbiamo fatto una grande partita tutti anche quelli che ne sono subentrati vediamo adesso anche i piccoli ovviamente come ho detto l'occasione di prima è entrato benissimo in partita ma comunque in generale tutti in una grandissima partita in 3 migliori vi metto ovviamente Lovato e Tonali vediamo un po' questi ultimi 3 minuti di partita per ora la Bosnia è in attacco e vediamo il tiro bellissima parata di Turati mamma mia che intervento di Turati ha fatto un tiro spettacolare quel giocatore della Bosnia lo vediamo qua tiro mamma mia Turati che parata il numero 5 della Bosnia non so chi sia perché non conosco i nomi della Bosnia è il giocatore della Bosnia però comunque il tiro è incredibile bellissima parata di Turati e vediamo calcio d'angolo adesso 3 minuti e 35 secondi il cross panno sul secondo palo mamma mia di quanto è uscita la palla e Turati che si arrabbia con col giocatore avversario e ma che stanno a fare boh cioè i giocatori della Bosnia se la prendono così per con tutti boh vabbè Tonali che ha diciamo diviso un po' tutti insieme anche a Lovato adesso l'arbitro li ha richiamati intanto rivediamo calcio d'angolo colpo di testa di Colombo pallone rimesso in mezzo non ha fatto niente cioè boh con Turati si è presa col giocatore avversario tra l'altro è lo stesso giocatore che aveva fatto il tiro ah è stato munito Zubanovic che è subentrato ho visto anche cioè che è subentrato ed è stato munito anche Turati boh Turati penso sia anche giusta la munizione perché si è andato a lamentare col giocatore senza motivo però non è stato munito il giocatore con cui si l'è presa Turati quindi è stato munito un altro che mi sa che è quello che se la stava prendendo con Lovato comunque manca un minuto anzi poco meno di un minuto alla fine bella qua la palla tenuta da piccoli no non è piccoli e comunque vabbè lancio lungo pallone recuperato dall'Italia retro passaggio da Turati comunque in questo ultimo minuto a meno che non succeda qualcosa ne approfitto per dirvi che torna breve probabilmente domani una serie incredibile perché la serie anzi è una delle due serie con cui ho cominciato il canale e quindi ne vedrete delle belle spero che appunto vada bene quel video comunque mancano 25 secondi alla fine della partita rimesso laterale per la Bosnia pallone messo in mezzo colpo di testa e poi allontana Colombo dove non c'è nessuno però bravo piccoli qua a rincorrere la palla e la tiene pure arriva anticipa l'avversario piccoli pallone intervento sulla palla piccoli che mantiene il possesso ovviamente bellissimo e poi è rimessa no non è uscita la palla è finita il ricopero vediamo l'arbitro fischia fischia alla fine della partita l'Italia vince anche contro la Bosnia gol di Ocoli al diciannomesimo Vignato al ventisettesimo Barisic al settantanovesimo per accorciare le distanze non sono riusciti a pareggiare Italia che si merita la vittoria Bosnia che si è sbagliata forse un po' troppo tardi ed è riuscita quindi a segnare un po' troppo tardi ma questo uomo qui il numero 15 Ocoli l'ha sbloccata e ci ha permesso poi ovviamente di diciamo ha permesso all'Italia di fare una partita molto più in discesa noi ci sentiamo domani come vi ho detto per quel video non vi voglio spogliare niente e ovviamente ci sono anche le pagelle di questa partita Bosnia e Zegovina Italia noi ci sentiamo domani appunto bye ragazzi che non vi voglio non vi voglio Grazie a tutti.